A Teramo la Giunta Comunale ha dato il via libera a tre progetti di fattibilità relativi ad altrettanti siti strategici per la città. L'obiettivo è di intercettare fondi utili a ridisegnare il volto di Teramo, intervenendo su aree di edifici di forte portata culturale, sociale ed economica. Tre progetti che concorreranno al bando del Governo Rigenerazione Urbana per agganciare le risorse necessarie. Tra questi spicca quello del Teatro Comunale da circa 10 milioni di euro e prevede un rinnovamento profondo del teatro, dall'ingresso che verrebbe spostato sul corso alla sala principale che verrebbe ampliata in termini di posti e palcoscenico. La generazione urbana è una delle parole chiave che è stata affrontata questi giorni in Giunta, approvando dei progetti di fattibilità per degli edifici che in qualche modo vadano appunto a riqualificare la nostra città. Il più significativo evidentemente è quello del Teatro Comunale per andare ad avere un recupero pieno e funzionale di quello che è quello spazio culturale che deve diventare un hub strategico nel centro città, una riqualificazione che passa per una revisione di quelli che sono gli attuali spazi e che torni a dare una centralità al teatro sia da un punto di vista architettonico che da un punto di vista artistico e culturale. Sono troppi anni che in qualche modo non si è intervenuti per una manutenzione su quello stabile, ora è venuto il momento di affrontare seriamente la questione. Questa amministrazione è pronta, ha approvato il progetto, lo candiderà in tutte le sedi opportune, discuteremo con gli operatori culturali del territorio così come abbiamo già avviato in queste settimane e non appena avremo dei risultati saremo pronti ad essere in campo per andare a riqualificare appunto il Teatro Comunale. Il progetto complessivo che andiamo a presentare è per 20 milioni di euro per quanto riguarda il recupero di tre stabili, per quanto riguarda il Teatro Comunale ci aggiriamo tra i 9 e i 10 milioni. Oggi siamo soltanto in una fase di progetto di fattibilità, quando andremo poi ai livelli successivi, quindi sul progetto definitivo e sull'esecutivo valuteremo quella che è la situazione, quelle che sono le possibilità che avremo davanti. Certo è che già nel progetto di fattibilità abbiamo in mente di ridisegnare completamente quelli che sono gli spazi. Vedremo con le analisi successive se sarà il caso di demolire e ricostruire oppure se si potrà andare ad adeguare lo stabile esistente.